Sono entrato in Ferragna dopo aver portato dalle 10 alle 12 volte la domanda e il curriculum. Finalmente un giorno sono stato chiamato, io lavoravo in piaggio a Sestri e ho fatto il colloquio con un ingegnere, tre giorni dopo mi ha chiamato che poteva andare a Ferragna. Il primo mese funzionava che ho fatto solo corsi, sicurezze, antincendio, corsi sul lavoro, tutte quelle cose lì e poi sono entrato in turno e ho cominciato a lavorare. Ho sempre avuto la fortuna di avere dei colleghi che mi hanno fatto entrare nel modo del lavoro e capire come funzionavano bene le lavorazioni. Che poi sinceramente da capire, il lavoro era abbastanza semplice, fin da che poi non siamo passati di sopra in sala controllo che c'era qualcosina in più. Era una cosa abbastanza attenzione perché ci voleva attenzione perché a fare un disastro e inquinare il fiume ci voleva poco. Il reparto era parecchio grande, era parecchio grande e era suddiviso su tre piani. Si partiva da sopra che c'era la pesatura che ci dava i prodotti insieme al centro soluzioni per poi preparare l'emulsione. L'emulsione andava a finire dentro a una caldaia, stava lì diciamo che una rifusione, io lavoravo particolarmente nella rifusione. E una rifusione durava dalle 7 alle 8 ore, la più corta 6 ore e mezza e la più lunga sulle 10 ore. E c'era tutta una catena di lavorazioni, controlli argenti, PAG, PH che dovevano essere in certe tolleranze. E poi veniva scaricata su delle tavole che noi chiamavamo tavole di congelamento, veniva raffreddata e poi c'erano due addetti al taglio e alla pressatura di questa emulsione. Finiva in dei bidoni da 50 o 40 kg che poi andavano direttamente in una ghiacciaia della stesa. C'erano dalle 10 alle 12 soluzioni, più la gelatina e poi direi che girava tutta questa caldaia fino a che non era pronta per essere scaricata. Ferragna era un mondo tutto a parte, per un ragazzo della mia età, ragazzo quando sono entrato, entrare in Ferragna per me era come entrare… Sì, venivo da realtà Piaggio che era abbastanza… però quando mi sono trovato in Ferragna io mi sono trovato in un mondo totalmente diverso. Io qua ci vado in pensione e la mia vita lavorativa finisce qua, ero ben convinto, ambiente, organizzazione del lavoro. Sembrava di entrare in un posto che non era un posto di lavoro, era un paesino dentro a un paese. Era una grande famiglia, forse dire troppo, perché poi dentro gli screzi c'erano e non erano tutte rose e fiori. Però era come entrare in un paesino, più o meno ci conoscevamo tutti, anche se eravamo tanti. Facevamo qualcosa che lo facevamo solo noi. Il percorso è andato che io dal 1993 che sono entrato fino agli anni 2000 più o meno, 2000 sì. Le cose andavano bene, premi di produzione, stipendi, insomma io in Piaggio quei soldati non li ho mai presi, sono sincero. Poi piano piano abbiamo cominciato a vedere che i volumi sia della radio, più che altro della radio. Il colore ne abbiamo risentito un pochino, un po' più tardi. Ma della radio ci siamo accorti che i volumi stavano scendendo. Poi attraverso altri discorsi siamo venuti a sapere che la Kodak aveva preso i nostri brevetti, facendoci lavorare due anni sotto di loro, in pratica gratis, dicendo che poi alla fine dei due anni avrebbero mantenuto i contatti con noi, quando poi dopo due anni ci ha dato un calcio nel sedere e ci ha mandato via. Noi abbiamo perso tutti i brevetti, abbiamo perso tutta la nostra produzione radio, è andata a finire la Kodak, per colpa di chi non lo stiamo a dire, perché ognuno ha le sue idee. Se ho provato a ripartire con la radio, con i laboratori delle ricerche, per cercare di fare qualcosa di nuovo, ma probabilmente da parte di qualcuno che stava più in alto di noi, provincia, regione, Italia stessa, non c'era più la volontà di farla andare avanti questa fabbrica, c'era la volontà di farla chiudere. Io da quello, dalla mia ignoranza, dal poco che posso aver capito io, che Ferragna è stata fatta chiudere per volere di qualcun altro. E penso che si vedrà fra una decina d'anni, quando sarà tutto spianato e ci sarà quello che veramente volevano fare in Ferragna. Parlo di un interporto, direi, container, infatti hanno fatto le strade, hanno già fatto tutto, se uno ci passa, vede cosa sta succedendo dentro lo stabilimento di Ferragna. A fine luglio ci siamo trovati a casa, l'ultima stesa, fatta l'ultima stesa e mi ricordo che facevo il pomeriggio, 2 a 10, mi ha dato la lettera al mio caporeparto che da lunedì ero in casa integrazione, per non si sa quanto tempo. Di lì poi sono partiti, vabbè, sciopperi, contro sciopperi, andati al Ministero, a Cairo, davanti alla banca, siamo venuti in centro a Savona, siamo andati a Genova, siamo andati a Roma, però è servito a poco, proprio a poco, allungare l'agonia, che poi allungare l'agonia, insomma, sono sempre soldi che ci hanno dato tutti i mesi, non abbiamo mai perso niente, abbiamo ottenuto tanta cassa integrazione, abbiamo ottenuto la mobilità, abbiamo ottenuto cose che purtroppo altre realtà non hanno mai ottenuto. da un momento all'altro aspettavamo che quel momento lì arrivasse, perché secondo me non è stata fatta una programmazione, perché si sapeva che si passava al digitale, se si voleva tirare avanti un po' di più qualcosa prima, un passo avanti si poteva fare. E l'ultimo giorno, io mi ricordo, non ho detto che l'ultimo giorno, eravamo in ritardo, non riuscivamo a finire la stesa, perché sinceramente nessuno ne aveva più voglia, e mi ricordo che arriva il mio caporeparto, io stavo alle 9 e mi dice se sabato mattina qualcuno avesse avuto voglia di andare a lavorare per finire la stesa, per scaricarla. Mi ricordo che la nostra relazione è stata quella di girarci e andarcene tutti, non mandarla a quel paese perché un po' di educazione ce l'hanno insegnata, però nessuno gli ha dato risposta. Non so quella stesa lì che Fino abbia fatto e non voglio nemmeno saperlo, penso che sia andata direttamente nel fiume o direttamente via. Grazie. 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 Grazie.